Una commedia, miei signori, è questa. Io vengo a dire il prologo e a preparare la festa. Ecco qui quel che serve, una giornata chiara, un mare calmo e le nuvole bianche su nel cielo. E poi una montagna di cartone, deserta, nuda, triste, che subito ricopro con le case. Ed ecco il municipio con la sua fontana e i bei palazzi dove stanno i ricchi. Ed ora che ho finito con la scena, mi affretto a presentarvi personaggi. Lazzaroni, intriganti, vanitosi, farabutti, infingardi, furbi o sciocchi, bastonati o prepotenti, brontoloni e mai contenti, alla fine belli o brutti, ci assomigliano un po' a tutti. La commedia qui incomincia, si presenta con onore. Ascoltate e riderete tutti insieme di gran cuore.